US Avelino Summer Camp, tre settimane di divertimento, di grande calcio qui al Partenio Lombardi che stanno vedendo come protagonisti 50 bambini dai 2009 a salire. Un'esperienza molto forte perché giocare su questo terreno di gioco, allenarsi, esultare sotto la curva regala grandi emozioni. L'ideatore, il deus ex machina di tutto, naturalmente oltre alla famiglia d'Agostino, Gigi Molino. Insieme alla proprietà abbiamo studiato questo Summer Camp, i ragazzi hanno risposto benissimo, quindi ci stiamo tutti divertendo, compreso i ragazzi che sono i protagonisti, però naturalmente lavoriamo anche, quindi va bene così. Sotto questo sole, 50 ragazzi per tre settimane dai 2009 a salire, ci spieghi come funziona questa mattinata? Ma noi abbiamo deciso di farlo a numero chiuso per non creare molta confusione, perlomeno la prima edizione. Come funziona? Arrivano la mattina alle 8, naturalmente vietati i cellulari e tutto quello che è computerizzato. Poi veniamo subito in campo alle 8 e 30, 8 e 40, perché con le temperature così calde, 11 barra 11 e 30 li facciamo uscire. Abbiamo delle postazioni con quattro allenatori professionisti, ci sono due docenti che anche hanno lavorato in scienze motore. Abbiamo alcune postazioni, attività motore, coordinative, di abilità, abbiamo la tecnica di base, esercitazioni con le paratine, mettiamo anche le partitelle, quindi i ragazzi si divertono molto, devo dire la verità. Voglio sapere come ti chiami, niente ansia? Luca. Luca, che ruolo giochi? Attaccante. Per chi tifi, me l'hai detto, cioè qua c'è solo una squadra del cuore? L'Avellino. Nessun'altra squadra del cuore? Anche la Juventus. Va bene, ammettiamo questa cosa. Voglio sapere chi è il tuo campione preferito? Cristiano Ronaldo. Ma il capello è per Cristiano Ronaldo? Sì. Ok. E come ti chiami? Enzo. Enzo. Quanti anni hai? Ho 9 anni. 9 anni. Ma è la prima volta che fai il campus con l'Avellino? Sì. Prima volta? Sì, la prima volta. Sì, io mi diverto molto qui nel campus dell'Avellino e mi diverto, facciamo allenamenti, partite. Di tutto e di più, di tutto e di più. Si gioca anche tanto, so, fa delle partitelle. Sì. Ma quando corri sotto la curva sud è bello, ti emoziono. Faccio questa esultanza. Ah, perché fai questa esultanza? Perché la faccio a Gigi Molino quando sognava. Che ruolo giochi tu? Attaccante centrale. Attaccante centrale. Chi ti piace? Maniero. Maniero. Salutiamolo. Dai, Maniero. Ciao, Maniero. Ciao, Maniero. Ciao, Sforza Channel.